Diciamolo apertamente, il punticino conquistato contro l'Inter non accontenta la Fiorentina. Sì, ha fatto bene Delio Rossi a dire che la Fiorentina avrebbe meritato almeno due punti in più, ovvero la vittoria, perché la squadra rivista contro i Nerazzurri è una squadra che sembra essere tornata incredibilmente in vita, dopo settimane di sofferenze, paure della Serie B e soprattutto momenti di alta tensione. Merito delle riserve, merito di chi è stato fino ad oggi sempre e quasi spesso a guardare, a guardare la partita dalla tribuna o dalla panchina. Insomma, la Fiorentina operaia poteva e meritava di vincere contro l'Inter. Peccato che l'episodio, il rigore sbagliato dagli Aic, abbia condizionato i viola, abbia condizionato il risultato e abbia appunto costretto Delio Rossi a portarsi a casa solo un punto. L'occasione di rimediare per ripartire e fare un passo in avanti importante, forse decisivo, nella lotta per non retrocedere, è l'appuntamento di mercoledì sera a casa della Roma, allo Stadio Olimpico. Non che si tratti di una trasferta facile, questo non lo è mai stata, ma la Fiorentina rivitalizzata e rivista contro l'Inter potrebbe farsi e regalarsi una bella storia. Ci sarà fra l'altro anche una strana sensazione al momento di decifrare la formazione che andrà in campo, sì perché con la squalifica scontata rientrerà a Mauri, mentre anche Iovetici sta meglio e potrà essere regolarmente in campo. Insomma, i due nanetti, tra virgolette, che avevano fatto l'attacco della Fiorentina contro l'Inter, ovvero Cerci e Leic, rischiano di rimanere fuori. Ma potrebbe non essere così, Delio Rossi potrebbe inventarsi una nuova formazione a sorpresa e continuare a tenere i big più lontani dalla zona centrale del campo, ovvero quella dei titolari. Così insieme a Montolivo e Gamberini, destinati, pare, a rientrare ancora una volta in panchina, potrebbe finire fra le riserve addirittura a Mauri, per far spazio a Iovetici, che andrebbe a giocare in un 4-3-3 con Cerci, appunto, da una parte e Leic alle sue spalle. Insomma, una Fiorentina che si potrebbe presentare a Roma in senso offensivo molto spiccato, sognando la vittoria, sognando il colpo a sorpresa e sognando soprattutto i tre punti che le regalerebbero la salvezza. Grazie.